Sono delle tagliatelle a ruota classiche, fatte in casa, e prima vuoi di salmì di pollada. Il salmì è un tipo di preparazione. Si prende l'uccello selvatico, la pollada, la si scuoia. Più che spennare bisogna scuoiarla, visto l'ambiente in cui vive. Si deve all'interiore, si cerca di recuperare le frattaglie dal colmone al cuore. Si mette nel vino una certa gradazione e dalla marinata si mette il rosmarino, le carote, le cipolle, c'è nel sedano. Però si abbonda in tarote per rendere i salmì più dolci. Viene lasciato marinare per tre o quattro giorni. Dopodiché viene cotto nella sua marinata, viene disossato. Si cerca di salvare dei pezzetti abbastanza consistenti, il resto viene passato e passa verdure. Le verdure vengono del salmì di pollada e si serve con dell'olio. A presto!